Ricordate il Napoli di Sarri? Tutti la ricordano. Era una squadra grandissima, una squadra che quasi riuscì a sfiorare l'impresa dello scudetto e raggiunse 91 punti in campionato. Ma il Napoli di Sarri, nel confronti dei Napoli di Spalletti, peccava di un aspetto. Era troppo lezioso. Ricordate tutti i tacchi, i tacchetti, le finte, il passaggio sottoporta? Quasi il Napoli voleva entrare con la palla in porta. Tutti i tifosi del Napoli ricorderanno questo aspetto. Il Napoli di Spalletti, invece, è un Napoli molto cinico. Una squadra che capitalizza alla prima occasione possibile. Lo dimostrano i fatti, lo dimostrano i 31 gol in 11 partite dall'inizio del campionato. Praticamente un dato incredibile e soprattutto ricordiamo che anche giocatori che non nascono come centravanti, come raspadori, adesso sono totalmente funzionali in quel ruolo e riescono a concretizzare dei gol importantissimi. Dal gol con lo Spezia al gol realizzato il primo di testa sul secondo palo contro l'Ajax da puro centravanti e il secondo gol ancora una volta da puro centravanti che alla prima palla gol la mette dentro. Il Napoli con Simeone e Raspadori in queste partite ha fatto benissimo. Stesso Simeone ha dimostrato di essere un calciatore totalmente rinato e soprattutto in fiducia. Un aspetto non fondamentale per il suo lato caratteriale. A Napoli si sente tutelato, in famiglia accolto e ben voluto dai tifosi e questo sta giocando di sicuro a suo favore. Invece con Osimen adesso chi potrà giocare in attacco? Con il recupero di Osimen già dalle prossime partite il caro Spalletti avrà forse un calciatore in più da utilizzare. Ma chi uscirà per un Napoli così in forma? Scrivetevelo nei commenti.